Dacci oggi il nostro pane, dacci il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti. Come noi rimettiamo ai nostri debitori e non ci inturre in tentazione, ma liberaci dal mare. E non ci inturre in tentazione, ma liberaci dal mare. Signore sia con voi, benediti a Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.